Nessuno nasce campione, nessuno nasce atleta, insegnante o musicista. Ma grazie al tuo aiuto, tutti lo possono diventare. La felicità di un bambino si misura nel sentirsi amato. Noi di Missione Don Bosco raccogliamo amore per costruire il loro domani. Perché il futuro è la nostra missione. Grazie a tutti.